Ehi, come stai? C'è un tempo qui per te, anche tu, tu lo sai, presto insieme ci sarai. Ehi, domani puoi dedicarmi a qualcosa, qualche cosa tu farai. Ehi, tu lo sai, presto insieme intorno a tu ci sarai. Tu ti divertirai, finalmente un giorno tu riuscirai. C'è troppo in un città, non si può stare solamente qui là. Allora decidi di tornare in quel posto, da prossima settimana se lo vorrai. Ehi, come stai? Ehi, come stai? Ehi, come stai? Ehi, come stai? Tu ti divertirai, e poi adesso ti divertirai. E poi a casa tu tornerai. Due gabbiani raccontano tra loro una storia molto bella, ma non si capisce perché. Un giorno, guarda, non si capisce perché. Un giorno, guarda, pericene, ti guarda dall'alto. Tu ti prepari e poi esci. Un momento che ti diverti, avevi un appuntamento molto bello, Con una ragazza incontrata così E ti diamante le punti organizzano un puntamento E tu vai là La ragazza fondenta ti aspetta Ma un piccione solamente là Ti fa la cacchetta E gli occhiali da sole così Non ci puoi stare Sei costretto a tornare a casa Scoracciato, deluso dell'appuntamento Perché poi non puoi andare così La ragazza fondenta ti arrabbia E ti lascia così perché Tu non sai più che dire Non sai più che dire Scoracciato, deluso dell'appuntamento Non sai sentire che no Oppure no Così non dici niente La ragazza si arrabbia di più E poi ti cavola con te Questa cosa mi è davvero successa E per una cosa del genere Ci ho perso veramente tutto Mi ricordo di lei anni fa Sono totalmente sfigato Sono totalmente incazzato Sono solamente arrabbiato Perché non era bello Questo è quasi un appuntamento Grazie a quel cavolo di piccione Che mi ha rovinato Il mio chiaro di da sole